Dal parco di Rogoredo alla Campagnetta. Chiaravalle di ristrutturazione. Chiaravalle di ristruttura. Chiaravalle di ristruttura. Ecco qui ci ricongiungiamo all'aciclabile del parco della Vettabia. E' un'altra parte della strada. C'è quella fila di nuovi alberi. Si arriva all'impiato di caprazione delle Acquarefo di Milano di fine 800, proprio di fronte alla trattoria. Poi si attraversa Chiaravalle e dopo l'ultima caccia di Chiaravalle c'è il passaggio in mezzo ai Chiampi che porta direttamente in via di Vittoria. Chiaravalle di ristruttura. Chiaravalle di ristruttura.